Altri medici indagati, anche questi al momento solo come atto dovuto, per la morte della pensionato vadese Maria Luisa Orsi, 76 anni, deceduta all'ospedale dei Novi Ligure lo scorso 6 gennaio. Sono sei sanitari, alcuni di Ovada, altri di Novi, che si sono affidati ai legali Roberto Cavallone e Manuela Moretto. La donna, prostrata da dolori all'addome che l'avevano colta mentre faceva acquisti in un negozio, era stata accompagnata al pronto soccorso di Ovada. Necessitando di un'attacca, che lì non poteva essere eseguita, fu trasferita all'ospedale dei Novi e sottoposta ad accertamenti diagnostici. La situazione però era precipitata celermente e Maria Luisa Orsi è morta. Il cadavere è stato sottoposto ad autopsia, il marito e i figli chiedono di chiarire cosa abbia provocato l'improvviso decesso, visto che la congiunta era in buone condizioni di salute prima di accusare i forti dolori, si attende il risultato dell'autopsia. Si esclude un'embolia.